Con l'autunno si sa, ecco che inizia la stagione della corsa campestre. Quest'anno i campionati provinciali si apriranno a Sondalo, domenica, con il cross della Pradela. Rientrato lo scorso anno nel calendario dopo dieci anni di assenza con l'organizzazione dell'Atletica Alta Valtellina. Ad aprile le danze, come sempre, saranno i più piccini e gli esordienti, che dovranno affrontare un anello da 400 metri. Poi via via spazio la categoria ai ragazzi, cadetti ed allievi, per poi passare a quelle ai superiori, i senior femminile e maschile, che dovranno affrontare rispettivamente 3.000 e 6.000 metri. Come la scorsa edizione, anche quest'anno si correrà nei prati adacenti il parasport, un percorso veloce ma allo stesso tempo nervoso e muscolare, che metterà certamente ad una prova le capacità di resistenza dei corridori, alla caccia di un primo tassello per la conquista del titolo provinciale. Lo scorso anno, nonostante il maltempo, erano stati ben 200 epodisti che si sono affrontati sul tracciato e quest'anno le premesse saranno certamente positive, dato che si prospetta una giornata baciata dal sole. A primeggiare lo scorso anno erano stati Marco Leoni e la Junio e l'Alessia Zecca. Quest'ultima certamente è in astra di partenza per poter preparare il prossimo grande appuntamento di stagione, il cross della calzolina, che si svolgerà il 29 novembre. Prova valida per la selezione della squadra azzurra di prossimi campionati europei, che si svolgeranno a dicembre in Francia, quindi non resta che allacciare le scarpette chiodate e darsi appuntamento a sondolo, per una giornata che per il pubblico si pronuncia sicuramente esaltante.